oggi è martedì 16 luglio 2024 questa è la rassegna stampa di fano tv iniziamo come sempre sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia oggi non è un santo ma è una ricorrenza la ricorrenza è quella della beata vergine maria del monte carmelo carmelo è un monte della palestina un monte sacro un monte dedicato all'eremitaggio fin dai primordi anzi già un prima dell'avvento del cristianesimo era un monte sacro per gli ebrei il carmelo è un luogo di ritiro soprattutto vi soggiornò anche il profeta elia e lì alle origini ebbe ebbe origine e l'ordine dei carmelitani e lì la vergine apparve anche a simone stock un'eremita inglese molto devoto alla madonna e quindi oggi proprio si festeggia si venera quella immagine che è apparsa appunto a simone stock e quindi la festa della beata vergine maria del monte carmelo ed ora vediamo anche le previsioni del tempo continua il dominio anticiclonico con tempo stabile sulle marchi le temperature sono sempre molto molto alte la massima toccherà i 36 gradi ma probabilmente anche qualche linea di più per quanto riguarda il termometro la minima si è testata a 25 gradi i venti sulle coste spirano da una direzione di est nord est mentre nell'entroterra da ovest nord ovest il mare è calmo il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà alle 20.47 abbiamo così dato un quadro di quello che sarà la giornata di oggi una giornata comunque calda prettamente estiva anzi il caldo sta esagerando possiamo dire sta creando diversi inconvenienti ma intanto vediamo l'apertura che c'è oggi sul corriere adriatico teatro della fortuna 10 anni di crescita stretto rapporto con la città e giovani l'articolo si basa ad una conferenza stampa che si è svolta ieri nel foyer del teatro della fortuna in cui praticamente la presidente della fondazione katia amati ha passato le consegne anzi ha ceduto il suo incarico nelle mani dell'assessore il nuovo assessore alla cultura lucia tarsi tramonta l'era amati al teatro della fortuna ma un'era in cui si ricava un invidiabile bagaglio di successi riconosciuti anche dalla attuale giunta successi che fanno riferimento soprattutto al grande coinvolgimento dei giovani che si è attuato in questi ultimi anni all'aumento degli abbonamenti e alla qualità degli spettacoli che sono stati offerti qualità di spettacoli che si riferiscono alla stagione di prosa alla stagione della lirica che viene organizzata in collaborazione con la fondazione rete lirica delle Marche e anche con la stagione sinfonica che se non ha proprio quel numero di spettatori che caratterizza la stagione di prosa e quella della lirica dove non meno di 500 spettatori a serata affollano la platea il teatro della fortuna ebbene però c'è uno zoccolo duro molto molto professionale che segue sempre questi appuntamenti e poi che cosa accade? accade che ci sarà tra poco il passaggio delle consegne tra poco in settimana anzi il sindaco dovrebbe formalizzare la nomina del nuovo presidente della fondazione il nome è quello di Stefano Mirisola mentre ancora non si sa il nome degli altri due componenti che entreranno in consiglio sulla nomina, sulla proposta del sindaco mentre dovrebbero rimanere i rappresentanti dei due enti privati che fanno parte della fondazione ovvero la fondazione Carifano rappresentata da Claudio Giardini e la banca di credito cooperativo rappresentata da Michele Brocchini e quindi dovremo aspettare ancora qualche giorno per avere l'assetto completo di questo nuovo corso che così caratterizzerà l'attività del teatro e poi abbiamo tutto il consuntivo che ha fatto Katia Amati di questi dieci anni di gestione di questa grande struttura che è stata poi anche efficientata dal punto di vista dell'energia dal punto di vista della climatizzazione comunque uno stretto rapporto con la città e i giovani è stato un po' l'indice dei risultati che si sono ottenuti perché quando poi si interessano i giovani e questi aderiscono con entusiasmo vuol dire che si è fatta una meritevole opera culturale è stata presentata ieri anche la nuova edizione di Itineris quella iniziativa attuata dall'Associazione Alberghi Consorziati di Fano presieduta da Luciano Cecchini insieme all'amministrazione comunale che si avvale poi di diverse collaborazioni che fa sì che si concretizzi il rapporto tra costa e dentro terra sì, la costa rimane la principale forza d'attrazione del turismo fanese perché la gente che viene da fuori va soprattutto al mare ma però ci sono altre risorse altre risorse che devono essere messe a frutto come tutto il bagaglio storico, ambientale, artistico che fa parte dell'entroterra ebbene l'Associazione degli Albergatori organizza dei pulmini che periodicamente fanno un'escursione nell'entroterra e qui si visitano i castelli ma si assaggiano anche le eccezionali elaborazioni gastronomiche che ognun comune, ognuna località ha di suo e quindi ha una gastronomia tradizionale molto molto particolare che piace anche molto ai turisti vediamo le altre notizie purtroppo abbiamo un altro lutto che segue quello che è accaduto domenica a Gimarra dove purtroppo è affogata una persona e ieri purtroppo c'è stata un'altra disgrazia questa volta è accaduta a Torrette nei bagni Hermes colto da malore, muore in acqua tragedia fotocopia dopo 24 ore intitola il Corriere Adriatico sulla spiaggia di Torrette vittima Rinaldo Mancini di 79 anni di San Costanzo era il primo giorno di vacanza insieme ad altri 17 anziani che fanno parte di una cooperativa anziani di Cerasa erano due settimane di svago di relax, di tranquillità, di socialità sulla spiaggia appunto di Torrette era insieme in acqua insieme ai suoi amici ma silenziosamente mentre nessuno poi si è accorto di quello che stava accadendo è caduto in acqua forse è colto da un giramento di testa o di un malore e lì è affogato è stato trovato dopo poco tempo da una signora che faceva parte del gruppo con il volto rivolto verso il fondo e purtroppo nonostante che sia subito intervenuta la mattina dei soccorsi immediata quella dei bagnini immediata quella del 118 purtroppo non c'è stato nulla da fare ci sono anche le condoglianze del sindaco di San Costanzo di San Costanzo Domenico Carbone che ha dichiarato è una notizia molto triste che ci ha colpito non possiamo che unirci al dolore della famiglia e poi la spiaggia è stata visitata anche dall'assessore ai servizi sociali Jessica Vitali che ha cercato insomma di portare conforto ai familiari e Bancini era vedovo e aveva tre figli conforto per quanto è accaduto ebbene poi ci sono i funerali i funerali che si svolgeranno per quanto riguarda Fulvio Pierini domani alle 9.30 nella chiesa di Sant'Orso mentre i funerali di Bancini si svolgeranno giovedì nella chiesa di San Costanzo vediamo anche invece un'iniziativa estiva che si svolge a Fano si tratta del Love Party un maxiraduno di batteristi e l'organizza la famiglia Carboni che insomma ha anche allestito il museo delle batterie allarga il perimetro Fano Love Party che ormai vicino alla maggiore età bene siamo ormai diverse edizioni sconfina con la zilla a Lido e non fa mistero di volersi intestare anche il centro storico l'anno prossimo insomma si sta allargando questa manifestazione vi ricordate il celebre verso della canzone dei Beatles All You Need Is Love il sottotitolo di una manifestazione che negli addobbi nei gadget proposti dagli organizzatori in modo particolare l'organizzatore sono Daniele e Filippo Carboni che fanno parte appunto di questo piccolo team che vivacizza le vacanze di Fano un problema un problema che periodicamente coinvolge gli inquilini delle case popolari il condominio era staccato ancora il gas noi paghiamo ed è inaccettabile sorge ancora alla ribalta sorgono ancora alla ribalta le proteste degli inquilini del condominio Erap di Bellocchi la cui gestione da tempo è compromessa dalla morosità di alcuni e quando non pagano tutti appunto le bollette che cosa fa? si stacca si stacca la fornitura del servizio e questo non va bene perché ci sono anche quelli che pagano regolarmente e quindi non hanno quel servizio per cui pagano questa è una situazione che si ripercorre dicevo periodicamente è stata già vissuta dai condomini nei mesi invernali ed ora si ripropone ma guarda caso proprio in questi giorni c'è stata la risposta dell'assessore Aguzzi ad una interrogazione che ha fatto la consigliera regionale Marta Ruggeri in merito a quanto accaduto in un'altra zona della città nel condominio di Via del Ponte un condominio che ha avuto lo stesso problema anche qui alcuni pagavano altri non pagavano ma però è stato tolto il servizio vediamo che cosa ha risposto Aguzzi nella risposta l'assessore competente ha informato che la regione si è mossa per recuperare gli arretrati e gli stessi alloggi che l'Erap ha anticipato 9.000 euro nel 2023 per compensare la morosità insomma è intervenuta l'Erap a pagare le utenze di quelli che non riuscivano a pagare appunto questo servizio e quindi poi il servizio è stato ripristinato però insomma è una situazione da risolvere perché non è possibile che di una carenza degli altri se ne facciano carico anche chi si comporta regolarmente tiriamo la pagina vediamo quello che accade a Marotta anni 80 che passione quattro serate di musica e cinema a Marotta Tracy Spencer Ivan Cattaneo e i Rockets sono questi gli appuntamenti più importanti di questa serie di iniziative il clou sarà il concerto di Raff quindi una bella manifestazione dal 30 luglio al 4 agosto che fa parte dell'iniziativa Mar 80 5 coinvolgenti serate in piazza dell'unificazione dedicate agli anni 80 più il concerto di Raff alla Molo Arena vediamo la pagina di Senigallia a Senigallia beh pericolo ordine pubblico alba shock una maxi rizza coinvolgente tra i Maranza chi sono i Maranza sono i giovani di strada quegli scapestrati quelli che insomma sono molto molto vehementi violenti insomma sono quei ragazzi che fanno che hanno dei problemi spunta un martello arriva la polizia il titolare della della croissanteria dolce e salato regno della brioche del mattino dove tutti quanti vanno a fare colazione dici ci sono troppi rischi chiudo al pubblico pensate quando un operatore è arrivato a prendere questa decisione vuol dire che la situazione è giunta proprio all'estremo insomma non si può essere alla mercè di giovani che per vincere la noia magari sbaraccano tutto o fanno anche di peggio guardate qui abbiamo una fotografia del martello che è stato sequestrato ad un giovane e se un giovane va di notte per fare per divertirsi con un martello in tasca insomma la situazione vuol dire che è veramente arrivata ad un indice di pericolosità estremo il sindaco Olivetti per quanto riguarda Senigallia lancia un appello non tuffatoli dal molo io non vedo le immagini del del video speriamo che il video inquadri l'articolo che vi sto per leggere Olivetti non tuffatevi dal molo è pericoloso dice il sindaco tuffi vietati dal molo un vecchio modo di divertirsi che sembrava ormai sparito invece è stato ripristinato proprio in questi ultimi tempi tra ieri e domenica ci sono stati alcuni episodi che sono stati preoccupanti il primo cittadino quindi ha preso l'iniziativa di invitare tutti coloro che fanno questa pratica una pratica pericolosa perché poi tuffarsi a testa in giù si corre il rischio di insomma farsi veramente male non solo è invitato tuffarsi dal molo e fare il bagno in area portuale ricorda il sindaco ma soprattutto è molto pericoloso attuare dei comportamenti che sono pericolosi per sé e per gli altri e quindi c'è questo appello vediamo anche quello che viene da Iesi studente con il pollice verde da sballo coltivava in casa sette piante di cannabis è stato sorpreso però dai carabinieri che lo hanno trovato sul balcone dell'appartamento dove il 26enne Iesino viveva con i genitori e vediamo qui le piante che sono state sequestrate era un amante del pollice verde ma di un pollice verde particolare di un verde particolare vediamo ora qualche notizia di carattere regionale vediamo che non va bene per il governatore della regione Marche il sole 24 ore ha fatto una classifica dei governatori più diciamo così più graditi dalla gente e purtroppo Francesco Acquaroli insomma è in coda è una delle ultime posizioni il primo più gradito è Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia seguito da Stefano Bonacini dell'Emilia Romagna da Luca Zaia del Veneto e vediamo che al tredicesimo posto secondo questa classifica c'è Francesco Acquaroli conta il dato reale ha reagito il governatore delle Marche un mese fa le urne i cittadini hanno votato per noi e quindi queste classifiche magari prese in un momento particolare non fanno testo contano secondo Acquaroli i voti i numeri quelli reali quelli che sono emersi dalle schede dalle urne elettorali Marinelli il leghista furioso la maggioranza ha svinito il ruolo delle commissioni il capogruppo della Lega bacchetta gli alleati in aula c'è stata Maretta in consiglio regionale non è così che si lavora ha dichiarato e poi c'è stato anche un siparietto tra ciccioli e acquaroli ti ho creato problemi sì anche questa mattina quindi vediamo come all'interno della maggioranza in regione insomma ci siano delle turbulenze ma sono turbulenze che poi si risolvono perché questi sono battibecchi occasionali torniamo quindi a Pesaro a Pesaro vediamo una iniziativa della Confindustria che spinge per organizzare grandi infrastrutture con i supertecnici del futuro vediamo che cosa è accaduto è accaduto che si è svolto un corso ITS a Fano con il supporto delle maggiori aziende del territorio affrontare le sfide della produzione energetica con le giuste professionalità è l'obiettivo che il gruppo energia e transizione ecologica della Confindustria presieduto da Federico Ferrini che è proprio uno dei rappresentanti di una delle ditte maggiori che operano nel Fanese vuole sostenere nel territorio vuole sostenere nel territorio con l'obiettivo di formare professionalmente quei tecnici che servono alle aziende quindi non una formazione generale così che poi possa dare la possibilità agli studenti di prendere vari indirizzi ma proprio una formazione finalizzata per far sì che le aziende del territorio abbiano il personale che loro necessita con la giusta formazione con le giuste indicazioni nuovi incentivi alle imprese che aprano attività nei borghi vengono promosse dalla Camera di Commercio che ha finanziato il progetto con un milione in due settori di intervento sono due bandi che sono stati emessi dalla Camera di Commercio uno riguarda la transizione ecologica quell'altro riguarda lo sviluppo economico dei borghi dell'entroterra quindi un incentivo ancora superiore e poi vediamo questa iniziativa questa iniziativa legge il giornale e guadagna i punti UOM inquadra il QR code sul Corriere Adriatico e l'applicazione che mette in rete una comunità consapevole con attività commerciali ed enti di che cosa si tratta il titolo insomma è sintetico ma per capire che cosa accade bisogna leggere il testo allora è un'iniziativa che propone con il QR code sistemato nelle vicinanze di palazzi storici antiche chiese luogo itinerari luoghi di itinerari culturali che cosa accade accade che inquadrando questi QR code si possono così attuare delle iniziative è una piattaforma digitale che permette di raccogliere i cosiddetti punti UOM che rappresentano il valore sociale delle azioni individuali ma non solo sono già quasi 200 le attività commerciali che si sono dotati di questi dispositivi per offrire poi sconti agevolazioni a chi ha questa applicazione nel suo telefonino incentivando la creazione del valore di Pesaro insomma un'iniziativa che da una parte incentiva la solidarietà dall'altra il valore culturale della città di Pesaro con tutte le iniziative di capitale nazionale della cultura e in più il valore turistico della città stessa perché dà notizie appunto sui luoghi visitabili bivacchi e fuochi sul San Bartolo sono veramente pericolosi è un rischio continuo di incendi festa selvaggia sabato notte nella spiaggia di Fiorenzuola occorrono controlli e telecamere questo è un appello che è di prammatica per quanto riguarda questi comportamenti pericolosi vediamo l'apertura sul resto del Gallino questa mattina un'apertura che riguarda la composizione dello staff del sindaco il cambiamento di giunta e quindi anche il cambiamento dei collaboratori del sindaco e dei vari assessori sono alcuni dipendenti comunali che si avvicendano in questi uffici ma sono anche degli esterni che entrano a far parte dell'amministrazione comunale per tutta la durata della tornata amministrativa e vediamo quali sono questi nomi lo staff del primo cittadino sarà composto da Michela Battisti che ha accompagnato per tutta la campagna elettorale Luca Serfilippi e poi abbiamo Roberta Cantoni e Alessandra Tancini oltre al giornalista di ruolo entrato di ruolo ha vinto il concorso Jacopo Frattini l'assessore alla viabilità Alessio Curzi ha mantenuto nella sua segreteria Roberta Grigli che aveva già svolto questa funzione con l'assessora Barbara Brunori mentre Gianluca Ilari ha optato per Giulia Molo anche lei dipendente del comune sono tutte scelte queste esterne invece quelle che fanno parte da quest'altro elenco che sto per dire Loretta Manocchi avrà al suo fianco Lisa Segatori Mauro Talamelli assessore alla difesa si affiderà a Emma Menzi mentre Stefania Canestrari in lista con i civici Fano lavorerà con l'assessore Loredana Baghernino che fa parte che ha avuto la delega dei servizi educativi poi Chiara Furlani in lista con la Lega entra nella segreteria di Alberto Santorelli assessore al turismo e a grandi eventi mentre Esther Musco che è anche una stata che è una collaboratrice di Fano TV andrà con l'assessore alla cultura Lucia Tarsi ma udite udite entrerà in comune anche il nostro ex direttore Marco Ferri il primo dei non eletti della lista Fano cambia passo non affiancherà nessun assessore ma avrà un settore di competenza a lui a lui finalizzato diciamo così si parlerà in modo particolare della mobilità sostenibile quindi anche Marco Ferri avrà un ruolo all'interno dell'amministrazione comunale l'articolo principale con il fondo chiaro sul resto del carlino è dedicato alla fondazione e prima di chiudere la nostra rassegna stampa voglio farvi vedere questo articolo che viene da Mondolfo e purtroppo evidenzia un atteggiamento che si ripete ogni tanto anche in altre località si sono asfaltate le strade in occasione del giro d'Italia e dopo pochi mesi anzi dopo pochissimo tempo si rompono di nuovo per fare l'acquedotto e qui vediamo un'immagine di via Fano che era stata asfaltata e poi di nuovo rovinata per far passare l'acquedotto soldi sprecati sarebbe bastato accordarsi con l'Aset sulla tempistica invece di avere una strada tagliata nel bel mezzo e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto